Occhi giornali, rassegna stampa, commento alla stampa del giorno, buongiorno, benvenuti a tutti cari telespettatori, ben ritrovati, sono le 7 del mattino, in diretta sul canale 17 c'è Occhi giornali appunto su Fanotv, bene partiamo subito dal Santo, vediamolo con il cartello San Leonida di Alessandria, il sole è sorto alle 6 e un quarto, tramonterà 4 minuti dopo le 20, subito il tempo. Uno sguardo da trebimeteo.com, andiamo subito nel dettaglio delle marche perché questa mattina ancora un po' di pioggia, in realtà qua non è che se ne vista moltissimo nella provincia di Pesorbino, ma comunque segnalate infatti vedete poche goccioline rispetto invece ai goccioloni che ci sono in grafica sul resto della regione, pomeriggio ancora un po' di pioggia schiarite già sulla parte centro-settentrionale della costa, la sera migliora qualche sporadico piovasco lungo il crinale appenninico, mentre domani questa è la fotografia del mattino, mentre c'è ancora piogge soprattutto al sud, pomeriggio migliora, il sole sempre più abbondante nella regione, nella parte settentrionale, quindi la provincia pesarese, poi la sera insomma dovrebbe essere ormai passata la perturbazione con le piogge. Allora adesso subito i titoli delle prime pagine dei giornali, come ciò del carino di Pesero, la fotonotizia è per, guardate che bella fotonotizia questa mattina, della didattica a distanza per alcuni studenti del Marconi, tutti in presenza non tanto a scuola ma sul San Bartolo e sicuramente è stata una lezione da ricordare, alla faccia della DAD, alla faccia della didattica a distanza, poi il titolo vaccini, prenotazioni a rischio, l'assessore regionale Aguzzi in visita alla Codma di Fano, scarseggiano dice lui le dosi, siamo costretti dunque a rallentare il piano di vaccinazione, poi la cronaca, paure e polemiche in via Toscana a Pesero dove un operaio in bicicletta è stato travolto da un'auto, adesso è grave a Torrette, Baby Gang in piazza Redi, sempre a Pesero, più controlli, la protesta sale per un centro che richiede, residenti che richiedono più attenzione, ha picchiato e stuprato la Escort, condannato a 7 anni per violenza. Monte Grimano, famiglia intossicata da monossido di carbonio, poi lezioni al 70% le superiori, oggi summit in prefettura e sui test rapidi voluti dal Comune di Pesero finito lo screening di Ricci, i falsi positivi sono 34 su 45, dunque errori del 75%. Poi il Cimelio del Cigno di Rossini, la bacchetta, la città purtroppo di Pesero perde la bacchetta di Rossini, ha giudicato all'asta per 20.000 euro, Vimini dice ne parleremo con Franceschini. VL si gioca il 10 maggio, l'ultima giornata, la Lega decide lo slittamento del campionato a causa del focolaio esploso a Brindisi. A caccia invece del secondo hub, questo è il titolo del Corriere Adriatico, secondo hub cioè secondo centro vaccinale, trattative in corso per un sito collegato alla Team System ma l'ultima parola spetta alla Regione, Valefoglia lancia la mensa di Talacchio come in centro vaccinali, Ricci dice partiamo con il quarto screening a scuola. Centropagina De Orse e Gymcane in centro, Rebus Gazebo per i locali e poi alcune storie in breve come quella dell'ingegnere No Limits che sfida freddo, acqua e fame, le sfide impossibili e poi i lavori sulle strade per oltre 43 milioni, il nodo dei conteggi e poi sulle terme di Carignano, terme per chiudere il contenzioso, c'è l'ok del Comune. Poi la nuova nomina del Presidente dell'autorità portuale dell'Adriatico Centrale, che cosa non ci piace della nomina di Africano, Matteo Africano, Presidente appunto appena eletto, c'è un articolo di Andrea Taffi sul Corriere di Oggi, ostaggio dei baby bulli Piazza Redi dice basta, anche ieri compiuto l'ennesimo atto vandalico, i residenti raccolgono le firme e lanciano un appello al Comune, condannato a sette anni per violenza ma lui non si trova. Curve da zona gialla, c'è questa anticipazione cui ormai il Corriere Adriatico ci ha abituati in queste settimane, poi tra l'altro anticipazioni che trovano conferma e questo è l'aspetto positivo soprattutto per un giornale, per un mezzo di comunicazione, l'anticipazione deve essere confermata e così è. Che cosa dice? Qual è l'anticipazione del Corriere di oggi? Che da lunedì le marche torneranno in zona gialla con tutto quello che ne consegue, ovvero con le riaperture, con le restrizioni che sono un po' più lente, un po' più piccole rispetto ad oggi e dunque il Pesarese che in particolare crea in questo momento qualche difficoltà perché comunque il Pesarese, sapete, è la zona dove ancora i contagi continuano ad essere più elevati rispetto al resto della regione e quindi non a caso su cinque comuni delle marche, quattro appunto sono nella provincia pesarese che in questi giorni sono in zona arancione forzato o zona rossa come vi piace di più e quindi insomma va monitorato un po' questo trend nella provincia pesarese ma tutto sommato diciamo dovrebbe essere dal 26 tutto confermato quindi le marche in zona gialla. Sui vaccini tra Pfizer e AstraZeneca invece sono arrivate oltre 48 mila dosi, lo slot adesso per i 65 anni, oggi si dovrebbero aggiungere anche le 4.450 dosi di Johnson & Johnson. Dunque la campagna vaccinale scala la marcia e diminuisce però i giri. Il generale Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, ha rivisto un po' a ribasso i target delle regioni quindi dovendo fare i conti con rifornimenti limitati ha invitato i territori a garantire le scorte per assicurare soprattutto i richiami. E a proposito di vaccini, il Carlino questa mattina racconta la storia di un ex assessore del comune di Fano Mauro Falcioni che in tanti conoscono, tanti fanesi conoscono perché insomma è stato in carica quando Stefano Guzzi era sindaco per molti anni e racconta di quello che è successo a Mauro Falcioni al Colma di Rosciano. Esige il Pfizer, ex assessore sfida ai medici, tensione al Colma, Mauro Falcioni si presenta per il vaccino ma gli propongono solo AstraZeneca, non consideravano dice Falcioni le mie patologie. Allora Mauro Falcioni lo vedete in questa fotografia, qua ovviamente il punto vaccinale di Fano al Colma di Rosciano e lui dice non c'è stato niente da fare, la dottoressa con cui sono capitato il giorno della vaccinazione non ha voluto sentire ragioni mentre io le elencavo le medicine che dovevo prendere lei mi rispondeva che stavo bene. Lui dice sì è vero io sto bene ma solo perché prendo i medicinali altrimenti sarei all'ospedale se non addirittura peggio. Poi racconta ad Anna Marchetti un po' come sono andate le cose. Ma quello di Falcioni non è certo un caso isolato, scrive il giornale. Secondo i dati della regione si aggirono intorno al 10% le persone che finora hanno rifiutato la somministrazione di AstraZeneca. Draghi ferma la Lega, passiamo al Nazionale un attimo, coprifuoco alle 22, scuola a ritorno in classe al 70%, approvato il nuovo decreto legge ma Salvini ordina i suoi di astenersi. L'irritazione del Premier non erano questi i patti. Intanto mezza Italia verso il giallo si torna dunque a respirare, migliora la situazione epidemiologica, resterebbero in rosso soltanto tre regioni, vedete Sardegna, Val d'Aosta, Puglia, insomma ecco dove scatteranno le prime riaperture e possiamo dire insomma un'Italia che va davvero molto meglio rispetto a qualche tempo fa. Torniamo su Pesero, pagina 2 del Carlino, superiore al 70%, tutto da rifare, summit in prefettura per il nodo trasporti, ieri sera scelta definitiva del Governo dopo che le Marche avevano definito il piano per il 60%, fissato per oggi un altro incontro d'urgenza. Intanto chiuso lo screening, tasso di errore altissimo su 45 ragazzi trovati positivi, solo 11 lo sono davvero, i test rapidi smentiti nella gran parte dei casi dal molecolare, Ricci dice siamo pronti a ripeterlo anche nel mese di maggio. Troppe incertezze sui vaccini, le prenotazioni rischiano di saltare, ancora da Pesero l'assessore regionale Aguzzi in visita al Codma di Rosciano che sarebbe pronto a passare da 4 a 12 linee di somministrazione, in provincia potevamo fare 1500 dose al giorno ma dobbiamo rallentare come abbiamo visto perché mancano le dosi, intanto sul Carlino di Macerata in arrivo anche le dosi di Johnson & Johnson, lo dice Filippo Saltamartini, assessore regionale della sanità, previsto per oggi la consegna di 4.450 fiale, pronti per 12.000 iniezioni al giorno ma scontiamo i ritardi purtroppo degli altri. Il Codma è esempio di efficienza, Aguzzi, questo scrive il Corriere, Aguzzi visita il centro di vaccinazione, rammarico per non aver concluso l'immunizzazione degli insegnanti perché ce ne sono più o meno da quello che leggevo circa 3.000 che sono sospesi, insomma, tra coloro che sono sospesi circa 3.000 docenti, insegnanti. La cronaca, sempre da Pesaro, Roberto Morena, 43 anni, un operaio in bicicletta, affalciato da un'auto, soccorso in eneliambulanza, adesso è ricoverato in gravi condizioni a Torrette, stava attraversando la strada e l'allarme dei titolari dell'azienda, via Toscana è diventata un circuito di velocità. Qui c'è la cronaca di quello che purtroppo è successo, l'incidente. Ieri lui è originario di Campobasso, da una ventina d'anni residente a Pesaro, è arrivato da poco nell'azienda nella quale lavora, la Tonucci SNC, che produce imballaggi in gomma piuma e che ha la sede appunto in via Toscana 65. L'economia, l'economia delle marche, a pagina 5 del Corriere Adriatico, si parla di nocciole, quindi di Nutella, di Ferrero, una delle più grandi aziende italiane. Perché? Perché la Ferrero avrebbe puntato gli occhi sulle nocciole delle marche, prodotte nelle marche. La multinazionale è specializzata in prodotti dolciari, interessata alla coltivazione, Carlondi c'è potenzialità della filiera da implementare con il piano di sviluppo rurale, l'interesse è fare coesistere sostenibilità ecologica ed economica. A settembre un nuovo bando regionale per le filiere agricole. Mentre dall'economia ai trasporti, sappiamo che insomma viaggiano abbastanza insieme perché se poi abbiamo le strade disastrate l'economia ne risente. Baldelli disegna le strade del futuro, l'assessore. È nato il masterplan delle marche, intervalli e pedemontane da completare per far dialogare le aree interne e tendere vivo il rapporto con la costa. Questa è la mappa degli interventi. Intanto sulla Fano Grosseto, Alessia Morani dice appalto entro il 2021 per la guinza. Incontro con l'amministratore delegato di Anas, Simonini. Baldelli anche qui trova spazio sulla pagina di Vallefoglia. Baldelli 43 milioni di lavori, Biancani però lo corregge, dice sbaglia i conteggi, l'assessore rivendica la svolta della sua giunta. Il consigliere invece dice l'accordo è stato firmato dalla giunta precedente, ovvero quella di Ceriscioli. Da Fano, città pronta per la nuova stagione? Gli operatori partono da un meno sei, sei meno. Dal Lido alla Sassonia cosa è urgente fare? Marco Linn dice lo stato delle strade è il punto dolente. Soccorso invece un escursionista nel Canalone, siamo a Piobbico, un escursionista solitaria nel Nerone poteva sfociare, un'escursione in solitaria sul Nerone poteva sfociare nel dramma. È successo nel pomeriggio di ieri quando un trekker di 38 anni ha deciso di spingersi sulle cime del complesso del Nerone, addentrandosi per i sentieri del rio Vitoschio ed è stato poi soccorso dal soccorso alpino. Sulla crisi, no non c'è crisi, crisi politica, qualche dissapore, qualche divergenza di vedute, insomma ha portato il sindaco di Fano Massimo Seri a riunire tutti e a chiedere comunque di fare una verifica, una verifica di maggioranza. Seri alza la posta, chiarezza o si vota a ottobre. Chiarezza sui temi altrimenti si vota ad ottobre sono le indicazioni che circolavano nelle parole usate dal sindaco Seri in apertura di questa verifica di maggioranza di martedì sera, nonostante le dichiarazioni finali condivise da tutti i presenti sulla volontà di proseguire con determinazione il programma di mandato e di elaborare un documento comune su Aset e Biodigestore, Nuova Strada e Gimarra e Fanurbino. La crisi del centro-sinistra però non sembra affatto superata, quindi come avete capito ci sono dei nodi, quindi la fusione di Aset con Marche Monti Servizi e la variante Gimarra e poi la Fanurbino che sono nodi che difficilmente in questo momento si riescono a sciogliere, ma ci sono e comunque alla fine l'idea è quella di andare avanti senza fare esplodere crisi pericolose che potrebbero davvero farci tornare a votare, ma non è assolutamente il caso. Arbitrato il rituale per le terme di Carignano, ora ce lo chiede il Comune di Fano, passo avanti nel contenzioso con la vecchia proprietà dello stabilimento di Carignano, poi da Fossombrone centro storico dobbiamo invertire la rotta, l'architetto Luzzi anima il dibattito social sul futuro della città. Fatture gonfiate in 23 rischiano il processo. Torniamo a Fano per parlare di una kermesse, quella di sapori e motori, che è finita nel mirino della procura, per che cosa? Per degli stand e degli spazi pubblicitari, il cui costo chiesto alle aziende era a detta della procura appunto un po' troppo elevato. La finanza parla di tariffe esagerate per evadere le tasse e dunque questi prezzi di stand e spazi pubblicitari gonfiati per portare in detrazione più somme e pagare così meno tasse è l'ipotesi su cui lavora la Guardia di Finanza di Fano, con cui rischiano di andare a processo 23 esercenti tra titolari di bar, ristoranti, agenzie di viaggio, ma anche consulenti, carrozzerie, società di costruzione che hanno comprato manifesti, cartelloni, striscioni pubblicitari in occasione dell'evento dedicato alle due ruote, appunto sapori e motori. E ieri si è discusso appunto in tribunale su, questo viene definito il giochino, su 10 mila euro pagati il valore reale era di 2 mila euro, 8 mila venivano restituiti dichiarando l'intero in porto per le detrazioni. Mentre sull'altra pagina del Carlino, andiamo a Senigallia, la cronaca pedina e prende a pugni la ex compagna è stato condannato mesi d'inferno per una donna di 45 anni che aveva iniziato una relazione con l'uomo dopo la fine del rapporto, però lui la seguiva anche al lavoro. Il giudice ha stabilito per l'operaio anche il recupero per l'abuso di alcol. E poi Davide Eusebi invece questa mattina sul resto del Carlino, sulla pagina del Buon Gustaio, vi segnalo questo articolo che è una marcorda, ma è anche, come dire, una marcorda di una famiglia che tutti noi conosciamo, insomma è conosciutissima. Intanto il locale, Monte Cucco, il locale di Casadei recentemente scomparso, vedete qui Raul. La famiglia chi è? La famiglia è quella dei Roberti, la famiglia dei Roberti che è a Monte Cucco e che ricorda appunto Eusebi nel suo articolo, ricorda come negli anni della guerra i tedeschi che cercavano alcuni ebrei. I ebrei sono stati accolti appunto a Monte Cucco dalla famiglia Roberti che li ha nascosti nei pagliai, tra le mucchie, riscando ovviamente anche la vita. Nei pagliai i fuggiaschi nascondevano anche i soldi e gioielli però, dice Roberti, noi lo sapevamo che c'erano i soldi, c'erano i gioielli, c'era l'oro, ma i nonni ci dicevano che la roba degli altri non si tocca e mai nessuno di noi toccò nulla nonostante la povertà, racconta Marco Roberti. Gli ebrei poi si salvarono, la guerra finì e poi da lì insomma aprirono la prima osteria nel 1948 in una stanza, adesso insomma tutti quanti conosciamo che cos'è il Monte Cucco, il ristorante Monte Cucco portato avanti appunto dai Roberti e qui c'è una foto di famiglia, sono tantissimi, c'è tutto in questo articolo compreso il numero dei nipoti e quant'altro. Poi c'è un'altra storia che invece vi segnalo, scritta da Giorgio Guidelli, sempre sul Carlino, pagina 19, Don Andrea, Don Andrea è Don Andrea Righi che tra l'altro anche vice lettore del seminario regionale, che dice in vetta sono più vicino a Dio, un altro appassionato di montagna, lui è urbinate, di cannavaccio, ama scalare le montagne, lassù dice lui, racconta avverto la presenza dell'infinito, direi bene, guarda che foto, guarda che meraviglia, guarda che infinito. Allievi sacerdoti, a loro insegno che la corda è fiducia, se cadi c'è sempre chi fa sicura. Ci si affida alla cordata e alla fiducia di chi sale con te e ti protegge, quindi la scalata come atto di fede. Poi da Montegrimano una famiglia intossicata da monossino di carbonio, una famiglia che si è per fortuna salvata. La minoranza ci accusa per i guai provocati dalla giunta di Ceriscioli, sull'ospedale di Urbino l'assessore Cancellieri e il consigliere Sir Filippi sulla mancanza di personale. Sotto invece vaccini Pfizer a casa Frusaglia, siamo a Rio Salso e poi a Piobbico, il paese delle meraviglie, adesso si trova in farmacia. E questa invece è la pagina dello sport con la notizia che la Lube ha vinto 3-0 a Perugia e dunque adesso si giocherà all'Eurosole Forum il match ball per il titolo tricolore. Quindi grande attesa, intanto possiamo dire che è andata bene perché non era poi così scontata questa vittoria visto come era andata la gara precedente. Intanto la vigile invece, restando in tema di volley, la vigile Arfano deve dire addio ai play-off perché ha perso contro la chimica Brugherio e quindi dice si ferma qua. Bene, noi invece andiamo avanti. Adesso tra poco alle 7.30 c'è la diretta della Santa Messa dalla Santa Casa di Loreto. Poi questa sera vi ricordo alle 20.30 il telegiornale. e poi uno speciale sui centri estivi per ragazzi e bambini del territorio, visto che stiamo andando verso l'estate. Ecco, i centri estivi anche e soprattutto per far star fuori i ragazzi, visto che dentro ci sono stati abbastanza, è un appuntamento interessante per vedere le offerte di questi centri estivi. Noi ci fermiamo qua, grazie per essere stati con noi, buona giornata.